Parte in Toscana il numero 116-117 per chiamare la guardia medica in caso di bisogni sanitari non urgenti e dentro la fine di novembre sarà attivo in tutta la regione. E' infatti questo il nuovo numero del servizio di continuità assistenziale, ovvero quello che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 nel fine settimana e nelle festività. In questi giorni inizierà una campagna di comunicazione per spiegare la novità ai cittadini. L'utente, come già avviene per il 112, potrà essere geolocalizzato. Al telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati con quasi 200 linee attive in contemporanea. Il servizio non parlerà solo italiano, ma grazie ad interpreti e all'intelligenza artificiale potrà interloquire con cittadini e turisti in molte lingue diverse e per i cittadini con difficoltà auditive è disponibile il servizio per SMS. Una volta entrato a regime, il numero offrirà anche altri servizi, tra cui telemedicina, consigli sanitari non urgenti, certificati, vaccinazioni, adempimenti burocratici, servizio veterinario, cure palliative ed assistenza domiciliare. Dal 16 settembre il 116-117 entrerà in funzione nel territorio della città metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre sarà poi attivato anche ad Arezzo, Grosseto e Siena e poi dal 18 novembre a Livorno, Lucca, Massacrare e Pisa. Una volta entrato a regime, il numero sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.